Deve essere il nostro filo conduttore anche perché comunque avremo poco spazio, poca pausa e sicuramente saremo chiamati in causa già il 17 settembre nel primo turno preliminare. Abbiamo lavorato tanto per cercare di trovare questa continuità, per cercare di trovare questa filosofia di gioco e adesso ripeto questa stagione ci deve servire per consolidarla nella prossima stagione, assolutamente. Ci sono tante persone da ringraziare ma ci tengo assolutamente a ringraziare il mio staff composto da persone di grande spessore professionale e umano che mi hanno aiutato tantissimo nel lavoro che è stato fatto e soprattutto e anche quelle persone che poi non sono visibili alla domenica ma che ci aiutano tutti i giorni mi riferisco a tutto il personale di Milanello che ci aiutano tutti i giorni a lavorare al meglio delle nostre possibilità qui dentro veramente c'è passione, c'è serietà, c'è senso di abattenenza e quindi li ringrazio veramente tanto. Creare una mentalità credo che sia l'aspetto più importante, più complicato e più lungo nel tempo e io credo che ci siamo riusciti anche in tempi non eccessivi e ripeto questa deve essere la nostra base portante sulla quale lavorare, sulla quale cercare di crescere e migliorare nella prossima stagione. A loro invece credo che faccia piacere perché veramente le abbiamo chiesto tanto, hanno messo veramente a disposizione tutto quello che avevano e secondo me avranno bisogno di staccare la spina, di recuperare però che quando si entra qua ci sia questa sintonia, questo stare bene insieme, questo desiderio di lavorare al meglio è sicuramente un aspetto che gratifica il nostro lavoro, che gratifica il nostro modo di stare insieme che però sono sicuro di ritrovare quando riprenderemo i lavori per la prossima stagione. Andrà in campo il migliore Milan, non so se sarà, ancora non so perché abbiamo l'ultimo allenamento stasera e la rifinitura domani mattina, ancora non so se sarà molto simile a quella dell'ultima partita con la Sampdoria perché chiaramente andrò a valutare il recupero dei giocatori scesi in campo e sicuramente non ci sarà Rebic che è squalificato e quindi giocherà a Leao dall'inizio però sicuramente la squadra sarà competitiva e lo sarà anche se poi ci saranno qualche cambiamento perché la cosa importante e molto positiva è che tutti i giocatori sono pronti e tutti i giocatori hanno dimostrato di dare il proprio contributo quando sono stati chiamati in causa. Abbiamo fatto un 2020 eccellente però non è finita e ci dobbiamo tenere a finire bene a consolidare la nostra classifica e a mettere altri punti con un'ottima prestazione anche domani sera so che sto chiedendo tanto ai giocatori, so che sicuramente siamo anche un po' stanchi sia mentalmente che fisicamente che anche la posizione in classifica non la potremo cambiare domani sera perché ormai siamo al sesto posto però abbiamo il dovere di provare a far bene anche domani e di aggiungere punti in classifica quello che non siamo riusciti a conquistare quest'anno dobbiamo provarci l'anno prossimo quindi il sesto posto l'anno prossimo non sarà il nostro obiettivo ma sarà qualcosa di più importante. Un saluto a tutti i tifosi italiani nel mondo che abbiamo, tutti i tifosi del Mila è un ringraziamento sicuramente particolare ai quasi 800.000 tifosi che ci hanno seguito allo stadio nel nostro stadio fin quando è stato possibile. Chiaramente ci dispiace non aver potuto condividere con loro, con la loro passione, con il loro sostegno con il loro entusiasmo questo periodo di stagione così bella da vivere insieme so che c'è molto entusiasmo, so che anche la presentazione della nuova maglia ha raccolto tante adesioni tanta tanta felicità, con loro sono sicuro che saremo ancora ancora più forti quindi le saluto, mi auguro di rivederli il prima possibile e di stare insieme noi perché se siamo stati forti senza di loro con loro saremo ancora più forti. Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori